Ecco, vedi Sergio? Se usate come posa ceneri, ste musaruole di merda possono anche venire bene. Intanto, sono ancora qui, sono ancora in cantina, e siccome sto aspettando che arrivi mio marito, ti faccio vedere l'uso che ne faccio io di sto schifo di musaruole. Beh, ora non so come girare la telecamera, e allora faccio così. Chissà se mi si vede. Boh, a scatola chiusa, mi faccio riprendere a scatola chiusa, non so cosa sta succedendo. Ci sono ancora delle cose che ti voglio dire, caro Sergio. Io non ho mai creduto a questa panzana fin dal 23 di febbraio, quando avete cominciato a toglierci la dignità di persone umane. Non ci ho mai creduto io a tutta questa roba, mi sono solo incazzata come una bestia e basta, perché le notizie che avevo preso io, molto prima che arrivassero sui giornali italiani, mi avevano già indotto al dubbio che tutta questa panzana servisse appunto per vendere vaccini, e così è. Tralascio di raccontare ai miei iscritti che io ero in trasloco durante il lockdown, e non auguro più la morte ai miei nemici, no, io ai miei nemici gli auguro tre traslochi in lockdown, senza conoscere i codici a teco, come è successo a me, e senza avere un fratello, ex comandante dei vigili, che ha preso il telefono, ha chiamato prefetti, vigili urbani, ha chiamato tutti quelli che conosceva per risolvere italianamente il mio problema, no? Il parente, l'amico dell'amico, siamo in Italia, così si risolvono le cose. Per poi appunto scoprire che invece come cittadina avevo diritto a tutte queste informazioni. Tralasciamo questo argomento, rimaniamo sul punto. Allora, che cosa mi ha dato veramente tanto fastidio di tutti quanti voi, brutti politici, di merda, perché è questo che io voglio dire, che siete stati delle persone spreggevoli. Quando è arrivato il picco, il cosiddetto picco del contagio, che altro non era che le vostre incapacità di gestire, da un punto di vista sanitario, una sanità che è stata distrutta in 30 anni di tagli, avete anche sbagliato le terapie ed è per questo che poi avete fatto crepare tanta gente a Bergamo, ma lo deciderà un tribunale, non certo Cristina Bregoli. La cosa che più mi ha dato fastidio è quando ho scoperto che i deputati, i senatori, tutti quanti siete scappati dal vostro posto di lavoro. Per due mesi siete rimasti tutti nelle vostre ville, belli tappati, pagati, delegando al Conte e soltanto a lui la decisione su tutto. Tanto che persino Di Maio o Gualtieri o Speranza al massimo venivano contattati telefonicamente, davano il loro assenso telefonico obbligatorio e lui firmava di PCM, di PCM, uno dietro l'altro, ne ha fatti 24, 25. Ci sono 8.000, 9.000 pagine da leggere alla faccia del diritto che i cittadini hanno di conoscere i loro doveri e i loro diritti e anche questo è stabilito dalla Costituzione. A me questa cosa mi ha veramente colpito perché mi avete fatto venire in mente quell'altro, il Savoia, quello che è scappato dal nord Italia al sud, ha abbandonato completamente l'esercito italiano dopo l'armistizio di luglio del 43, ragione per cui quelli come mio zio che erano militari, perché i ragazzi come mio zio classe 1923 erano stati richiamati per essere mandati in Russia, molti di loro fortunatamente per loro sono ritornati, ma altri 4 milioni sono morti sul don di soldati italiani, questo per ricordare un po' di storia a tutti. Ebbene, come quel re lì è scappato, abbandonando l'esercito di cui era capo, senza dare disposizioni, che è stata questa la prima delle gravi responsabilità di quella classe dirigente di allora, aver abbandonato i militari italiani, cosa che poi è diventata rastrellamenti, deportazioni, e dopo, soltanto dopo, successivamente, è arrivato l'accordo tra Mussolini e Hitler, perché tutti questi militari italiani prigionieri potevano scegliere, potevano o crepare nel lager, o firmare per la Repubblica Sociale di Salò, tornare in Italia, indossare la camicia nera, ammazzare altri italiani, bruciare altre case, sparare ad altri bambini, sparare agli anziani. E questo mio zio non l'ha voluto fare, ha scelto, ha fatto una scelta. Io tutti i giorni mi ricordo di mio zio, non aspetto la giornata della memoria, caro Sergio, perché portando il suo cognome, ogni volta che vedo il mio cognome, ogni volta che viene pronunciato il mio cognome, io immediatamente la mia mente va ad Emer, nella fossa comune. Terzo avviso, non avete diritto di parlare la giornata della memoria per gli internati militari italiani. Non ne avete il diritto. Come quel re fuggito, abbandonando tutti i soldati, così hanno fatto i deputati, così hanno fatto i senatori. Anzi, addirittura temendosi l'uno con l'altro, c'erano i deputati, i senatori del sud che avevano paura di quelli del nord. E' stato vergognoso quello che avete fatto. Per cui, caro Sergio, ripeto, tu non sei il mio presidente, non lo sei mai stato il mio presidente. Il mio presidente era Sandro Pertini, e infatti io sulla sua tomba, a Stella, dove è sepolto, qua in provincia di Savona, sì, io ci ho portato i garofani rossi, al mio presidente della Repubblica, Sandro Pertini, non te. grazie. Grazie.